Le problematiche relative alla colonna vertebrale che si sono realizzate durante il periodo tra virgolette di quarantena che hanno portato come evidenziato da una ricerca di assosalute molti italiani alla riacutizzazione di dolori preesistenti appunto a livello della colonna cervicale lombare o in taluni altri casi alla comparsa di problematiche del tratto cervicale e soprattutto lombare in relazione al fatto che molte persone si sono improvvisamente dedicate ad un'attività sportiva fai da te. Diciamo che il fatto di aver comunque iniziato un'attività sportiva in smart working può aver contribuito all'insorgenza di dolori articolari, in particolare al mal di schiena perché molte volte si è portati a compiere degli esercizi anche semplici, banali che però vengono eseguiti in modo assolutamente scorretto quindi con un sovraccarico articolare. In altri casi invece persone particolarmente allenate quindi che avevano una buona tonicità muscolare si sono ritrovati improvvisamente a che fare con un ipotonotrofismo muscolare quindi con un sovraccarico articolare che a sua volta può aver generato dei dolori articolari. Gran parte della sintomatologia è relativa quindi ad una sedentarietà, a delle posture sbagliate che sono state mantenute durante il cosiddetto periodo di quarantena ed in particolare mi riferisco alle posizioni che sono state mantenute nel guardare la televisione quindi sdraiati sul divano non facendo particolare attenzione alla posizione del racchide cervicale appoggiato sul bracciolo del divano piuttosto che alla posizione del computer sul tavolo che molto spesso poteva essere posizionato troppo in alto e troppo in basso obbligando le persone a mantenere una iperestensione, un'iperflessione del racchide cervicale con conseguente contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale e lombare. Quindi lo smart working può aver accentuato della sintomatologia quindi dei dolori lombari proprio in virtù di una posizione sbagliata. Vi sono alcune regole che devono essere rispettate nella quotidianità, in particolare è opportuno cambiare frequentemente la posizione quindi alzarsi, fare dei banalissimi esercizi di stretching per riattivare il circolo venoso periferico, per riattivare l'attività muscolare e quindi per consentire un drenaggio linfatico, mantenere una posizione ortostatica quindi una posizione fissa non per lunghissimo tempo quindi avere l'accortezza ad esempio di passare da una posizione bipodalica ad una posizione monopodalica e questo è molto semplice quando si sta per lungo tempo davanti ai fornelli utilizzando una piccola pedana sulla quale appoggiare alternativamente il piede destro e il piede sinistro. Nell'abbassarsi per raccogliere degli oggetti durante i lavori domestici ad esempio è sicuramente opportuno flettersi sulle ginocchia piuttosto che flettere i racchi del lombare. Questi sono dei piccoli esempi che possono sicuramente aiutare a ridurre il dolore cervico d'orso lombare e quindi il problema muscolare. L'insorgenza di una sintomatologia blanda non deve mai destare preoccupazione. Diciamo che questo problema può essere anzi come hanno risposto gran parte degli italiani a volte risolto rispettando del riposo, facendo degli esercizi di stretching quindi non sovraccaricando in maniera eccessiva il nostro apparato muscolo scheletrico e utilizzando dei farmaci di automedicazione che possono essere facilmente acquistati in farmacia e che rilasciano delle sostanze antinfiammatorie per via transcutanea quindi senza neanche andare a sovraccaricare l'apparato gastroenterico. Raramente si devono utilizzare medicamenti più importanti e la comparsa di questa sintomatologia nelle fasi iniziali non deve mai destare grande preoccupazione. Grazie a tutti!